Una banale diatriba fra confinanti che poteva trasformarsi in tragedia. E' accaduto stamattina a Biancavilla, poco dopo le 11, in Contrada Scirfi, una zona rurale ubicata a sud del territorio comunale, dove al culmine di un litigio fra due proprietari di fondi agricoli, uno dei due contendenti, un 65enne, ha estratto un'arma e ha fatto fuoco contro il vicino di 50 anni. L'uomo, per fortuna, non è stato colpito in zone vitali e ha riportato una ferita non grave. Le sue condizioni cliniche non destano preoccupazione. Immediate sono scattate la corsa al pronto soccorso per prestare le prime cure del caso e la segnalazione ai carabinieri che si sono subito recati sul luogo teatro del ferimento. Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Paternò e della stazione di Biancavilla. Il feritore si è poi costituito in caserma a Biancavilla e ha consegnato l'arma con la quale ha sparato contro il vicino. Al termine dell'interrogatorio, il 65enne è stato fermato. Si attende adesso la convalida dell'arresto da parte del magistrato.